Ho sempre amato la natura, guardare gli animali nel loro ambiente, scoprire i ritmi delle stagioni, con i piedi nell'erba fresca e i pensieri liberi in cielo. Sogno che tutti i bambini possano vivere le mie emozioni. Per questo ho deciso di lasciare parte dei miei beni alla Lipu. Così, quando non ci sarò più, vivrò in ogni battito d'ali. Ricordati della Lipu nel tuo testamento. Vai sul sito lipu.it oppure telefona. La tua penna può dare ali a un sogno. Grazie a tutti.